Mi chiamo Martina Palmucci ho 25 anni, mi sono laureata all'Università degli Studi di Perugia nel Dipartimento di Ingegneria Informatica. Il mio progetto consiste nello sviluppare un sistema di sicurezza crittografico che aumenti la sicurezza dei nostri dati in cloud attraverso lo sviluppo di un sistema che si chiama Attribute Based Encryption, ovvero un sistema crittografico basato su attributi. Mi aspetto di entrare nel mondo della ricerca a 360 gradi, perché comunque si tratta di un ambiente strutturato in cui tantissimi ricercatori interagiscono, quindi anche la possibilità di connessione, di scambiare idee, quindi questo per me è molto importante. Grazie